Palla Dettori, dalla tre quarti, innesca un contropiede per il Pescara, il centrocampista Biancazzurro, filtra il pallone buona, la posizione di Zizzari, fa ampi cenni, il collaboratore l'altro, Zizzari, Zizzari, 2 a 0 per il Pescara, il Stadio Adriatico in festa. E' stato bravissimo, ha cercato di fare il fuorigioco, Zizzari è scattato per vie non verticali ma è scattato sopra la linea dei difensori, si è presentato solo, ha fintato, si è messo la palla sul destro, l'ha scaricata sopra, eccolo qui, lo vedi che incrocia, incrocia molto bene, molto attento l'assistente. Il fuorigioco non c'è, se c'è è minimetrico ma non credo ci sia, poi scarica un destraccio, sopra la traversa, è il gol, che esagisce il risultato. Era girato proprio a vedere cosa diceva Marcello Fortarezza che è il primo collaboratore dell'arbitro, ha fatto ampi cenni che la posizione è buona. Lui è stato bravo a tagliare, ancora una gran palla di Dettori. Se Baroni ce lo fa rivedere, lui invece di andare in verticale ha andato dentro la linea dei difensori. Abbracciato anche dai calciatori della panchina. Eccolo, eccolo, lo vedi? Eh sì, nettamente regolare. Nettamente regolare, bravissimo. La posizione, sì. Abbracciato anche dai panchinari.